segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te paolo mieli è l'idea che dietro questa bella notizia ci sia un baratto è una insinuazione di chi vuol fare cattiva opposizione politica o è il riconoscimento dell'inevitabilità di quella realpolitik realismo politico che peraltro proprio draghi ribadì quando parlando di erdogan disse sì un dittatore ma con i dittatori alla fine bisogna trattare anche con fermezza guardi di baratto non capisco in che termini potrebbe esserci il baratto in che senso non è chiaro certo anch'io che pur gioisco per l'operazione che ha portato alla liberazione di patrick zacchi mi sono spesso domandato cosa avrei fatto se fossi stato al sisi è una persona notevolmente intelligente poco studiata in italia ma notevolmente intelligente se a un certo punto sono fossero venuti fuori atti inchiodanti come quelli che stavano venendo fuori su reggiani allora se io fossi stato al sisi avrei fatto questo avrei pescato un disgraziato senza arte ne parte e scusi eh non non sto parlando di insomma che frequenta un'università italiana l'avrei messo in carcere per una cosa inconsistente avrei aspettato che qualcuno in italia boccasse e provocasse un movimento d'opinione che quasi si sovrapponeva a quello di reggiani e poi l'avrei fatto condannare severamente dopo cinque minuti avrei concesso la grazia perché quindi qua non è baratto è intelligenza di al sisi perché con questo effetto agli italiani si possono essere portati non io guardi non io perché io ricordo reggiani su due storie molto diverse reggiani fu ucciso massacrato lasciato ai bordi una strada coi cani che rosicchiavano le ossa una storia orribile patrizzachi è un simpaticone che adesso verrà in italia forse imparerà due o tre parole di italiano dopo essersi laureato all'università di bologna verrà candidato in qualcuna delle liste che mi auguro vincano le prossime elezioni politiche ma insomma uso un filo di ironia per dire che sono due storie incomparabili e lo vedremo presto se il caso reggiani continuerà a essere tenuto come banco di prova della lealtà di al sisi nei confronti dell'italia lucas ommi mi